vuole spostarsi per favore no d'accordo questo chi è il tuo principe azzurro sul cavallo bianco ehi ehi ti senti bene ma piano quale luce celeste trapassa da quella finestra all'oriente e zulietta il sole lei chi è un poliziotto seconda classe ha una brutta tosse ne ho avute di peggio come come ha fatto a trovarmi è il mio lavoro trovarla va bene mi ha trovata e adesso che si fa adesso dobbiamo scappare fantastico come facciamo prima devo riacquistare il mio esquilibrio il suo cosa il mio esquilibrio o equilibrio anche quello come che ne dice della porta è chiusa chiave la potrei sconquassare lei la vuole sconquassare si vuole che lo faccia credo proprio di no vedi agente sono una principessa sono fatta anch'io di carne e ossa ed è molto molto tempo che nessuno mi tocca il cuore ma se non la butto giù ci possono ammazzare si ha ragione uno di noi deve essere pratico va bene la butti giù va meglio ti senti meglio no vuole che la che la sconquassi di nuovo non lo so sembra che dovremo ricavare il massimo da una situazione difficile eschi salute